Hola e bentrovati su Pagine Ossa, io sono Frank e questo è un nuovo episodio del podcast e voglio tornare a parlare un pochino di fumetti, non lo faccio da un po' di tempo, un fumetto horror sarà il protagonista di questo episodio. Sto parlando di Ichi the Killer, perché ne voglio parlare non è qualcosa di particolarmente recente, perché uno lo considero un vero e proprio capolavoro, due perché è forse uno dei miei cinque manga horror preferiti sicuramente, è tra i primi dieci fumetti horror che più amo. Un fumetto estremamente disturbante, estremamente violento, condito da dosi di gore e splatter non indifferenti e capire quanto possa essere disturbante il gore e lo splatter in un fumetto, tra l'altro essendo manga in bianco e nero, ci fa capire anche quanto è potente, non soltanto dal punto di vista immaginifico ma anche dal punto di vista concettuale, un'opera come Ichi the Killer. Stiamo parlando di un fumetto scritto e disegnato dal mangaka Hideo Yamamoto, è uscito in Giappone tra il 1998 e il 2001. Si tratta di un seinen, quindi diretto a un target di adulti e non poteva essere altrimenti dato che è veramente qualcosa di pesante, non soltanto appunto come ho detto dal punto di vista delle immagini che rappresentano una violenza senza filtri, ma anche dal punto di vista della poetica stessa che Yamamoto vuole portare sulle pagine di un manga. Inoltre nel 2001 da Ichi the Killer manga è stato tratto un Ichi the Killer film. Il regista di questa opera veramente meravigliosa è stato Takeshi Mike, che magari i più navigati conosceranno per essere uno dei registi giapponesi più prolifici e uno dei più malati anche. Ovviamente non voglio parlare dell'Ichi the Killer cinematografico, voglio soffermarmi su quello cartaceo, sul manga, sul fumetto. Partiamo riassumendo a grandi linee la trama. Di cosa parla Ichi the Killer? Parla di una Tokyo contemporanea, dilaniata dalle lotte tra clan della Yakuza e la mafia giapponese. A un certo punto uno dei più potenti boss della Yakuza, Anjo, scompare. Scompare con lui una borsa carica di soldi, ovvero di 300 milioni di yen. Il suo braccio destro, che si chiama Kakiara, inizia a cercarlo. Perché? Perché è innamorato, tra virgolette, di Anjo, essendo Anjo l'unico in grado di procurargli il dolore che Kakiara cerca. Perché? Perché Kakiara è un masochista e necessita di provare un dolore che elevi il suo piacere. Inizia quindi a cercare questo boss sollevando polvere e sangue e alla fine scopre che il responsabile della sua scomparsa è un certo Ichi. Un killer psicopatico manovrato da un oscuro individuo. Non vi voglio dire di più. Ichi the Killer è un manga, l'ho già detto quante, dieci volte nell'inizio di questo episodio. Veramente violento, veramente potente, veramente malsano. Un'opera disturbante e difficile da digerire, lo dico io che sono abituato ad opere di questo tipo. Non si tratta però soltanto di un orrore fisico, di un orrore della carne condito da elementi body horror veramente rilevanti. Si tratta in realtà di un'opera che nel puro stile di Yamamoto critica il Giappone contemporaneo in una maniera affilata e portando alla luce tutte le contraddizioni di un paese. Che dall'esterno viene visto troppo spesso come una terra promessa, come un luogo di perfezione, ma che in realtà nasconde grandi e forse insormontabili contraddizioni. Yamamoto, come ho detto, è abituato ad opere di questo livello. Di suo, ho letto nemmeno completamente, poiché mancano dei volumi fuori catalogo, quello che viene definito davvero il suo capolavoro, ovvero homunculus. E anche in quel caso questo mangaka cerca di fare dei ragionamenti che esulino dall'orrore, dalla violenza, dal disturbante. Ed è forse proprio il nucleo centrale di Ichid Killer ad apparire più disturbante di qualsiasi mutilazione, di qualsiasi corpo smembrato fatto a pezzi. Questo perché, appunto, le contraddizioni di un Giappone che viene sviscerato ed eviscerato, proprio come i personaggi del manga, lascia attoniti ed interdetti. Il Giappone, rappresentato da Yamamoto, è un paese dilaniato al suo interno, la sua anima stessa è dilaniata. È un paese traumatizzato dal punto di vista soprattutto sociale, che deve fare i conti con delle vere e proprie piaghe. Ogni trauma porta con sé un'espressione violenta e il Giappone è un paese estremamente violento pur nel suo modo di porsi che sicuramente non lascia filtrare tutto questo malessere che poi si nasconde dietro una cortina di perfezione puramente apparente. Il Giappone è vittima di violenza come quella del bullismo e non ci dobbiamo limitare pensando al bullismo come un qualcosa che riguarda i giovani, è un qualcosa che riguarda tutta la società indifferentemente dall'età di chi lo pratica o di chi lo subisce. Il Giappone è un paese in cui la mafia, quindi la Yakuza, domina e controlla molti elementi del vivere sociale e del vivere politico, in cui Yakuza e polizia sono interfacciati e interlacciati e in cui molto spesso le due cose si fondono e confondono. È un paese vittima del gioco d'azzardo, della prostituzione, dello spaccio di droga. È un paese dove persino la sessualità viene vissuta in maniera malata, priva di quella libertà che dovrebbe rendere la sessualità espressione di se stessi. Ed ogni espressione di ogni singolo personaggio è un'espressione malata, in un contesto nichilista che distrugge ogni possibilità di lieto fine. E manca un lieto fine, manca la speranza e il nichilismo avvolge tutti gli aspetti di questo manga, da un punto di vista puramente espressivo e visivo fino appunto al punto di vista concettuale. In Ichi the Killer non c'è la possibilità di affezionarsi realmente a nessun personaggio, sono tutti disgustosi, tutti malati, tutti deviati e non c'è modo di poter trovare, scovare del bene nel senso assoluto del termine in loro. Persino quando questi personaggi si dimostrano assolutamente umani e assolutamente compatibili, qualcosa ci porta a non poterli compatire e a non poterli accettare per quello che sono. Appaiono sbagliati perché sono sbagliati, perché è la società giapponese che li ha resi in questa maniera. Una società come ho detto traumatizzata e non soltanto dal grande trauma che è stato lo scoppio della bomba atomica, ma che vive un disagio derivato da anni e anni e anni di alienazione, secoli che derivano ovviamente dal rimanere al di fuori da un contesto più globale. Soltanto recentemente infatti il Giappone e non completamente si è aperto all'estero e attualmente allo stato attuale rimangono gravi problemi di razzismo e di non accettazione di chi viene dal di fuori o del andare fuori dal Giappone per vivere realtà culturali diverse, non migliori o peggiori, ma sicuramente diverse. Tutti i personaggi che popolano i CD killer, veramente tanti e tracciati tutti quanti in maniera mai approssimativa ma pur sempre approfondita, persino quelli minori, ci dimostrano quanto il nichilismo della società giapponese si riversi e si specchi in loro, che poi allo stesso tempo diventano specchio di questa società. Abbiamo una contrapposizione principale, quella tra Kakiara, il braccio destro del boss mafioso, che è un masochista, e Ichi, il killer, che è un sadico folle assassino. Bene, quando noi guardiamo questi due personaggi capiamo subito che sono le due facce della stessa medaglia. Ichi per esempio è la rappresentazione ovviamente eccessiva dell'otaku, dell'alienato che non riesce a esprimere se stesso se non attraverso appunto in questo caso la violenza, che è una maniera per superare il trauma, una maniera che però lo ingloba in un ciclo perpetuo di violenza da cui Ichi non è in grado di uscire. Ichi si sente un buono all'interno del contesto manga, si sente il buono della storia, è colui che si veste prima di compiere i suoi killer da supereroe, pensando di attuare un'azione punitiva verso i malvagi, che sono poi quelli che hanno abusato di lui quando era un semplice ragazzino. Però tentando di fare questo, tentando di fare il bene non fa altro che fare il male e la sua violenza, il suo sadismo si esprime divenendo espressione del malessere che non soltanto egli si porta appresso, ma che poi diventa qualcosa di assolutamente insano, qualcosa che riesce a fare il male nella stessa maniera in cui il male è stato subito da Ichi stesso. Dall'altro lato c'è Kakiara, Kakiara appunto l'opposto di Ichi, è un masochista che cerca nel dolore una maniera per affrancarsi dal contesto in cui vive, di cui gli interessa realmente poco e che cerca quindi di superare i propri limiti, i limiti dell'umanità stessa che lui non riesce ad accettare. E in un certo qual modo Kakiara è molto più vicino all'essere un illuminato rispetto a tutta l'altra marmaglia di gente che lo circonda. È colui che attraverso il dolore, come nell'antichità, è consapevole di poter arrivare all'illuminazione. Ma non ci può riuscire perché è una cosa che viene negata dal suo essere vittima di un sistema che lo tiene incatenato, tanto al sistema stesso quanto a se stesso, al suo modo di vivere, che non può trovare uno sfogo in quello stesso dolore che gli ricerca. E alla fine il risultato è essere delusi e non poter trovare in se stessi la forza, la forza che si pensava di avere. E quindi tutti i personaggi, partendo dai due protagonisti principali, non sono altro che dei perdenti, dei falliti che non possono far altro che fallire, non in grado di accettare se stessi e soprattutto non in grado di accettare il mondo in cui vivono. Un mondo che li divora, che li digerisce e che poi li risputa. Ed è proprio per questo che in Ichi the Killer manca qualsiasi prospettiva di salvezza e qualsiasi prospettiva di bene che possa essere raggiunto anche il semplice bene personale. Ciò che regna alla fine è l'insoddisfazione, la paura e il dolore. E allora ecco che viene dipinto un paese preda di se stesso che non può sfuggire alla maledizione di cui è vittima. Una maledizione che è appunto, come ho detto più volte, sociale e culturale. È impossibile sfuggire a se stessi. Questo ci racconta Yamamoto perché ciò che abbiamo dentro è in grado soltanto di divorarci e di risputarci, fatti a pezzi, se non fisicamente, sicuramente, psicologicamente. Ichi the Killer è davvero un grandissimo fumetto. Dieci volumi di puro orrore e di puro disgusto, di pura sensazione di malessere, con dei passaggi che forse lasciano un po' il tempo che trovano andando verso il finale. Film Ichi the Killer del 2001 che in un certo qual modo smussa questi angoli spigolosi è che cerca di rendere più digeribile, più sopportabile un film comunque estremamente più violento poiché la violenza filmica risalta e ha un impatto maggiore di quella disegnata adoperando due ingredienti essenziali, soprattutto nel cinema di Mika, non sempre però la maggior parte delle volte, ovvero l'ironia e il grottesco. Se però l'ironia è completamente assente nel manga di Yamamoto, di grottesco ne possiamo trovare ma il grottesco è un altro modo per questo grandissimo artista di fare critica sociale e in un certo qual modo anche critica politica. Poi per il resto comunque si tratta di un manga che ha lo scopo di intrattenere e di disturbare il lettore e quindi non stiamo parlando di un trattato socio-politico sul Giappone. Comunque capolavoro assoluto che io consiglio a tutti gli appassionati. Purtroppo in Italia non tutti i volumi sono disponibili, molti sono fuori catalogo, Ichi the Killer è stato portato in Italia dalla Planet Manga, io sono fortunato perché ce li ho tutti i dieci, anche se non tutti in prima edizione, però se riuscite a recuperarlo in un qualsiasi modo io vi consiglio assolutamente di leggerlo perché ne vale veramente la pena ed è un capolavoro che chiunque ami l'orro, non necessariamente fumettistico, non necessariamente manga, dovrebbe, se è possibile, avere nella propria collezione personale. Detto questo, penso che l'episodio si possa concludere qui, io vi ringrazio per avermi ascoltato per tutti questi minuti e vi invito al nuovo appuntamento la settimana prossima, non so ancora di cosa parlerò, vedremo, dipende anche da cosa riesco a guardare e leggere, ho tanta roba arretrata, però sono sotto concorso, quindi la testa diciamo che è alquanto altrove, vi invito a seguire sia o se preferite il podcast su Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, oppure a seguire anche o se preferite il video podcast su YouTube, a iscrivervi, commentare, trovate poi in descrizione tutti i link che possono essere utili, Telegram, Instagram, insomma, questo è il modo che avete per supportare il mio lavoro, ovviamente se vi piace. Un abbraccio grande e alla prossima, ciao!